Mattinata di applausi, ricordi ed emozioni al Politecnico di Piacenza per l'assegnazione di 12 borse di studio agli studenti ritenuti meritevoli. La cerimonia è stata presieduta dal prorettore Dario Zaninelli. Le borse di studio Pizzigati Minoia sono state assegnate a Elia Bianchini, Giada Mattani e Daniele Milani. La borse di studio Pizzigati Minoia fu istituita due generazioni fa dai signori Pizzigati che non avendo eredi hanno dato il loro immobile al centro di Piacenza, al comune di Piacenza con l'idea di appunto vendere questo immobile e fanno una borsa di studio intestata al loro padre. E questa borsa di studio da più di dieci anni premia tre studenti qua del Politecnico di Piacenza. Giuseppe Parma, Singh Kamalber e Alessandro Troni hanno vinto la borsa intitolata all'ingegner Aldo Aonzo. Alessandro Troni ora studia Ingegneria Spaziale a Milano. Cosa rappresenta per te aver conquistato questa borsa di studio? Beh, visto il punto dove sono adesso, diciamo essere riuscito ad andare a Milano, essere riuscito a pagare la casa e quindi un'opportunità per fare uno studio che non penso che avrei potuto intraprendere senza. La borsa intitolata all'ingegner Alessandro Ghisoni è stata assegnata a Marco De Buono, Confindustria Cesare Betti, Adatuan, Amedeo Alberto Belardo. Il riconoscimento intitolato all'ingegner Attilio Ceresa è stato assegnato a Filippo Zancani, la borsa al femminile Girls at Polimi PC a Giada Mattani. I premi di laurea Rotary Sant'Antonino per la sostenibilità sono stati conquistati da Letizia Cretarola e Gabriele Mazzolari.